Si svolgerà a Lanciano il 7 e l'8 ottobre prossimi Progress, la prima fiera del lavoro, del sociale e della formazione. Una rassegna inedita che nell'ampio spazio di Lanciano Fiera, incontrata Iconicella, offrirà un'opportunità concreta a chi cerca lavoro, ma anche a chi è intenzionato ad affinare la propria formazione, come ha spiegato al Tg8 Franco Ferrante, presidente di Lanciano Fiera. Noi intendiamo cercare di avvicinare sempre di più i cittadini, soprattutto i giovani, al mondo del lavoro. Per far questo stiamo mettendo insieme una fiera che unisce le aziende, le agenzie di lavoro, le cooperative, i patronati, grandi confederazioni nazionali e internazionali che possono dare uno spunto di lavoro ai propri giovani. Vuol dire formazione, vuol dire orientamento, vuol dire convegni, vuol dire che le aziende saranno qua e faranno anche delle selezioni di lavoro, faranno dei colloqui di lavoro con le grosse aziende della Valdisangro e di tutte le aziende nazionali. Punteremo molto sull'inclusione sociale nel mondo del lavoro. Vogliamo cercare il mondo in un altro di dare delle opportunità ai giovani meno fortunati e che devono essere partecipi del mondo del lavoro come forza attiva. Per due giorni il mondo del lavoro si incontrerà e confronterà con lavoratori, agenzie, enti di formazione, aziende e associazioni di categoria attraverso laboratori, workshop, convegni e soprattutto colloqui tra aziende e aspiranti candidati, incrociando così la domanda e l'offerta. Tra i sostenitori della prima fiera dedicata al lavoro c'è anche la Biperbanca, da sempre vicino al territorio, come ha dichiarato il direttore dell'area centro-est Giuseppe Marcolitta. Biperbanca è socia della fiera di Lanciano, ma c'è una storia che contraddistingue questo sodalizio. D'altronde la presenza sul territorio di Biperbanca è caratterizzata dal fatto che ha una direzione di territorio con sede nella città di Lanciano e con una fortissima attenzione strutturata rispetto all'economia, al sociale, alla cultura, alle iniziative territoriali. E nel contesto di fiera di Lanciano le troviamo un po' tutte queste iniziative. Progress è l'ultima attività che caratterizza una energia, una proattività, una dinamicità della fiera alla quale Biperbanca è molto legata. La fiera, a ingresso libero, servirà anche a disegnare un quadro della situazione occupazionale in Abruzzo, come annunciato dal sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento. Abbiamo aziende di grandissimo lavoro, abbiamo dei dati importantissimi nel settore manufatturiero, nel settore agroalimentare. Non dobbiamo sottovalutarci, dobbiamo lavorare tutti insieme, proprio perché promuovendo questo territorio e promuovendo i nostri territori possiamo far sì che i nostri giovani non siano costretti ad andare a lavorare al nord o in altre parti dell'Europa.